6.08 di Trenitalia, delle ore 9.22 per Bologna Centrale e in partenza dal binario 4. Ferma San Severo, Termoli, Vastò San Salvo, Vescara Centrale, Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Peru, Civita Nova Marche, Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Regione, Rimini, Cesena, Forlì, Paezza. 6.08 di Trenitalia, di Trenitalia, di Trenitalia, di Trenitalia, di Trenitalia, delle ore 9.22 per Bologna Centrale e in partenza dal binario 4. 6.12 di Trenitalia, di Trenitalia, Di Trenitalia, Desмотрos, Vescara Centrale, Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio,ichtenla, Ibero, Civita Nova Marche, Ancona, Senigallia, Fano, Pesaro, Regione, Rimini, Cesena, Forlì, Fanzà. Grazie. 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 Grazie.